Un posto al sole, puntate al 2 dicembre, Nico i soldi per il suo piano di vendetta. Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle puntate dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 sono ricche di colpi di scena e nuove trame. Dopo l'incontro con Maglio, Nico decide di allearsi con lui per vendicare la morte di Susanna. Ma senza seguire la strada della giustizia. Troverà i soldi necessari per pagare gli uomini di Piccardi. Pronti a tutto per eliminare Lello. Il giovane Poggi si infilerà in una situazione molto pericolosa. Nel frattempo, Roberto inizia a scoprire i dettagli di ciò che è successo tra Marina e Fabrizio, rimanendone sconvolto. Solo a quel punto, capisce l'emotivo per il quale la povera Giordano si è allontanata da lui e non accenna a riprendersi. Attenzione anche Alberto che, nelle nuove puntate di Un posto al sole, sarà vittima di uno spiacevole incidente con la sua famiglia. Di seguito, le trame dei prossimi episodi. Nel dettaglio, nei nuovi episodi di Un posto al sole Nico si metterà nei guai per il caso di Susanna. Dopo aver accettato la proposta di Maglio, che vuole vendicare la figlia a modo suo. La notizia che Lello avrà uno sconto di pena ha sconvolto tutti e Nico, che sembrava aver reagito con lucidità. Sarà colui che invece perderà completamente il controllo, dopo aver partecipato alla cerimonia funebre della sua amata Susanna, che non avrà giustizia. E così, divorato dalla rabbia e dal senso di impotenza, Nico si allea con Manlio. Chi ha trovato degli uomini pronti a far fuori Lello dietro l'autopagamento? Essendo in carcere, il denaro dovrà trovarlo il giovane Poggi, cosa che non tarderà a fare. La situazione rischia di precipitare da un momento all'altro. Continuando con le anticipazioni della SOP, vedremo Ferri inorridito da ciò che verrà a sapere indagando sui giorni in cui Marina era nella mani di Fabrizio. Mai avrebbe immaginato che Rosato arrivasse a tanto e solo a quel punto, capirà come mai la povera Giordano è così scossa e ha deciso di allontanarsi da lui. Che cosa farà Roberto? Riuscirà a far sì che Marina accetti di farsi aiutare per superare il trauma? Intanto, la presenza delle gemelle Cirillo si farà sempre più difficile e intervenire Sara Mariella, in soccorso di Speranza e di Manuel. Nei nuovi episodi della SOP, Palladini continua a mantenere il suo segreto riguardo i gioielli che ha trovato nel seminterrato. Mentre Lia sembra non pensarci più, presa dalla sua storia d'amore con Diego. Secondo le anticipazioni di Imposto al Sole dal 28 novembre al 2 dicembre, vedremo Alberto. Clara e Federico protagonisti di uno spiacevole incidente, cosa succederà? Non resta che aspettare le prossime puntate. Sunt tot cam ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, scrii beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda on. Nu așa-i și zici că stom ford, la cum mă comport, în treaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișetor, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gang... Să vă mulțumim pentru vizionare!